Eccoci qua con le pagine di Interlecce, ma prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo che le live reaction dell'Inter, come facevo tempo fa qui su YouTube, le faccio su Arena Sportiva, su Twitch, ok? Quindi venite lì, saranno delle live un po' diverse, un po' più piccanti, perché ci sarò io, ci sarà anche qualche altro interista, come per esempio Bombers è disponibile, ma ci saranno anche dei gufi. La prima live reaction dell'Inter è stata appunto Interlecce, dove c'era una gufa juventina, un gufo romanista, e noi gli abbiamo sbattuto in faccia la vittoria. Abbiamo fatto le live reaction di Roma Juve, abbiamo fatto le live reaction sul Napoli, sono andate entrambe bene, quindi vi aspetto su Twitch Arena Sportiva, dove, oltre alle trasmissioni in cui parliamo di calcio, faremo anche le live reaction, vediamo anche se magari faremo anche quelle di Champions, se sono parli di conference, vediamo un po' come siamo messi, va bene, quindi vi aspetto lì, per tutti quelli che mi seguono e mi seguivano sulle live reaction dell'Inter, vi aspetto. Su Twitch Arena Sportiva il link dovrebbe esserci anche qui sotto in descrizione, lasciate anche il cuoricino, ragazzi. Iniziamo subito con le pagelle di Interlecce. Allora, Onana, sei. Che dire, è più un sei politico? Sì, perché il Lecce mi pare ha fatto un tiro, che è quello da lontano di Sissè, facile da parare, tra l'altro, poi per il resto Onana praticamente si aggiunge agli spettatori, perché non fa assolutamente niente, quindi sei, più sei politico, ma sei. Andiamo avanti, Darmiana, sei e mezzo, gestisce con tranquillità, comunque nei tre dietro, l'Inter, grazie a Darmiana, ne guadagna di più sull'uscita palla al piede, ok? Ne guadagna di più in fase propositiva, perché comunque Darmiana ha piedi migliori, ovviamente, rispetto a Skriniar, però c'è un pro, ma c'è anche un contro, ovvero che quando lo si punta magari si fa saltare troppo facilmente. Però per il resto, ragazzi, buona partita di Darmiana, un bel sei e mezzo, così si prende anche il sei e mezzo a Cervi, ragazzi, a Cervi ormai io penso che se non lo si riscatta è da pazzi, perché comunque anche per la panchina o quant'altro da sicurezza, sempre presente, ottime chiusure per tutta la partita, a volte si propone anche in avanti quando serve, quindi andiamo per piacere da Rotito, facciamoci fare uno sconto o qualcosa, perché comunque 4 milioni per uno della sua età, eccetera, sono tanti, però ragazzi ci serve anche uno come a Cervi che è della panchina, se dovessimo prendere qualcun altro da sicurezza. Bastoni, sei e mezzo, anche lui in difesa, nessun problema, è un terzino aggiunto praticamente, si propone molti in avanti, non c'è niente da dire, ieri la difesa non ha sofferto per niente, ha gestito bene, si è proposta molto in avanti, quindi tutti quanti a sei e mezzo. Dunfis, attenzione, io Dunfis dito sei, perché? Ascoltate bene prima di sparare, perché magari qualcuno dice come fai dagli sei? Allora, un primo tempo orribile, un primo tempo dove ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, penso che se mi dovessi fermare al primo tempo il voto sarebbe stato 4-4 e mezzo, proprio senza problemi non lo volevo più vedere, tra l'altro su Arena Sportiva, a fine primo tempo ho detto, oh, Bellanova non lo vuoi mettere, D'Ambrosio meglio di no, oh, metti a Zanotti, metti a Zanotti che sicuramente farà meglio, poi è entrato, tra l'altro, quindi forse Inzaghi mi ha sentito, però non lo potevo vedere, voto 4-4 e mezzo per il primo tempo, però poi escono dagli spogliatoi per il secondo tempo e non so se finalmente abbiamo riscambiato il fratello scemo per Dunfris e quello reale, quello vero. Ragazzi, Dunfris va bene, non sarà un fenomeno, ma neanche sto bidone qui, Dunfris comunque stava facendo bene prima del mondiale, ha fatto anche bene al mondiale, poi da dopo il mondiale è sparito, quindi non so se ci hanno ridato il fratello scemo di Dunfris, per l'altro non so neanche se è il fratello scemo, la copia, il clone di Dunfris e lui è rimasto rinchiuso da qualche parte, non mi capacito. In secondo tempo sembrava il Dunfris che conoscevamo, galoppava, ha provato anche a puntare l'avversario, cosa che non faceva mai, sempre passaggi indietro, forse ha iniziato a sentire San Silo che rumoreggiava, quindi in un secondo tempo, se il primo era stato da 4,5, il secondo tempo comunque ha fatto un'ottima prestazione, ha fatto anche l'assist per Lautaro, per il secondo gol che comunque ha ampliato la distanza, molto importante, quindi diciamo che tra il primo e il secondo tempo gli do un 6, un 6 molto risicato, diciamo che un 6 grazie soprattutto a quell'assist che ha fatto, un 6 di fiducia e quant'altro, speriamo che da questo sia di buon auspicio per andare avanti. Va bene, non sei proprio risicato grazie a quell'assist e tutto quanto, ecco, ho spiegato la mia sufficienza. Barella 7. Barella mi è piaciuto tanto, sempre e dappertutto, un bellissimo assist a Mkhitaryan dopo aver gestito il pallone in area di rigore, poi avvia l'azione, se non sbaglio proprio lui, per il secondo gol, quindi ragazzi che gli devi di, questo è sempre e dappertutto, a corsa a destra, a corsa a sinistra, finalmente quando non si lamenta, non sbraccia, non sbuffa, la sua prestazione già è ottima, cresce ancora di più, fa un assist, provvizia il secondo gol, che gli devi dire a Barella ragazzi, 7, 7 e ancora 7. Cia, na, no, Ulu, 6 e mezzo. Ordinare l'amministrazione, diciamo perché comunque il centrocampo è suo, tiene le mani sul centrocampo, è il faro del centrocampo, possesso palla, rifinisce il pallone, sta dando anche del filo da torcere a uno come Brodvic, nel suo ruolo comunque, poi Brodvic tornerà e quant'altro, però Canoglu lì sta facendo molto molto bene, padrone del centrocampo, 6 e mezzo, Mkhitaryan, il treno armeno, 7 e mezzo. Fa un bellissimo gol, all'angolino, allora di prima sotto l'incrocio, poi al centrocampo ripulisce palloni, parte in azioni offensive, ripartenze, insomma, è un bel vedere, è un bel vedere, c'è stata una partita o due dove sembrava in fase calante fisicamente, dove magari gli serviva riposo, invece ragazzi sembra che si riposa giocando, cioè non capisco, è una cosa incredibile, è grande il treno armeno, 7 e mezzo, Gosens, 7 più, mi è piaciuto tantissimo, mi è finalmente il Robin Gosens, che cazzo vogliamo vedere, da un paio di partite a questa parte, se non sbaglio due partite da titolari, molto molto bene, su quella fascia galoppa la grande, si mangia anche in velocità i giocatori del Lecce, fa il passaggio a Barella per poi propiziare il primo gol di Mighideran, si guadagna un rigore nettissimo, che solo quest'arbitro incompetente, col VAR incompetente, non potevano vedere, un rigore solare grande quanto una casa, però se lo guadagna perché ci crede su quel pallone, bravo, che chiedi devi dire, che bravo Gosens, bene, bene così, questo è il Gosens che voglio, ovviamente le caratteristiche del giocatore a me non piacciono, ma questo è un altro discorso, ok, Gosens sta facendo benissimo e sono contento se rimane facendo così, ma non gridiamolo troppo forte, ok, però questo è Robin Gosens, che vogliamo, Lautaro Martinez, 7, e che gli devi dire a Lautaro ragazzi? Un pallone buono, un gol, che cosa gli devi dire? Poi fa la solita partita di sacrificio e quant'altro, allora lui un pallone, un gol, in più, in più, dopo aver fatto gol, è andato a proteggere Dunfriss da San Siro, che comunque, come ho detto prima, rumoreggiava e quant'altro, e ha protetto il suo compagno di squadra, una cosa che a me piace molto perché mi piace quando lo fanno, ma dovrebbe aiutare anche Dunfriss sotto questo aspetto, poi cosa fa? Esce, saluta tutti, fa il giro, lo abbiamo inquadrato 500 volte, quando passa lì dove si stanno allenando i suoi compagni di carica, eccetera, eccetera, va in panchina, insomma, sempre di più capitano Lautaro Martinez, dei comportamenti top, 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 bravo, bravo Lauti. Gieco, mi dispiace ragazzi, mi tocca mettere un'insufficienza, non volevo, ma mi tocca, 5,5 per Gieco, ragazzi, ma si vedeva già da un po' sottotono, fisicamente è in difficoltà, speriamo non riesca a oltrepassare questo momento molto presto, però comunque si mette a servizio della squadra, ma ragazzi è lontano dal Gieco che conoscevamo, ma perché comunque ha tirato la carretta, come sempre si dice, ragazzi ha una certa età e tutto quanto, ha tirato la carretta fino adesso, adesso è in una fase fisicamente calante, ha bisogno di un attimo di rifiatare, ha bisogno di un attimo di ripigliarsi, e questo è qui che entra in gioco molto importante Lukaku, che ritorna e può dargli questo comunque cambio e quant'altro, se tornasse ogni tanto anche Correa non sarebbe affatto male, ma comunque Gieco si deve un attimo ripigliare fisicamente, sta attraversando questo calo fisico che ogni tanto ha, è dovuto anche all'età e quant'altro, ma 5,5 non fa niente Gieco, ti aspettiamo per il tuo ritorno, andiamo a vedere i cambi, cambi poco da dire onestamente, poco da dire, Lukaku e Brodvich 6, sono entrati praticamente, Lukaku non ha avuto praticamente occasioni anche per mettersi in mostra, ok, la partita era solo da gestire praticamente, quindi l'ho entrato, ha fatto il suo, gli lo sei, così eravamo già sotto a zero, cioè Lecce non stava facendo niente, ha avuto anche poche chance, così come per Brodvich, è entrato, ordinare amministrazione, gestione, e quindi sei entrambi, invece dò senza voto a Gagliardini, D'Ambrosio e Zanotti, però occhio, come dicevo prima, Zanotti, lo conosco, lo osservo da un po', è un bel giocatore giovane che può fare molto bene, molto molto bene, tra l'altro io, come ho detto prima, su Arena Sportiva, veniteci a seguire perché andate a vedere anche il TikTok ultimo, andate su TikTok su Arena Sportiva, andate a vedere l'esultanza al gol della Roma, e vi faremo venire voglia di vedere la live reaction, dicevo, Zanotti gran bel prospetto, al primo tempo di Arena Sportiva ho detto, fai entrare Zanotti che è un bel prospetto, l'ha fatta entrare, comunque sia il 91esimo, però occhio a questo Zanotti, ultimo, ma non ultimo, Inzaghi 7, prepara comunque bene la partita, fa le scelte giuste, che gli danno ragione, in molti magari avrebbero messo Lukaku, perché deve giocare, ma attenzione, perché dopo ci sono altre partite, c'è spazio per tutti, Michiiterano alcuni dicevano, mi è compreso, magari deve riposare, che poi comunque ha già riposato, però, Zanotti gli ha dato ragione anche questo, non ha fatto l'errore di nuovo, di mettere D'Ambrosio, e quindi spostare Darmian in fascia, e tutto, stava facendo bene Darmian nei tre, l'ha lasciato nei tre dietro, quindi non ha rifatto l'errore, quindi come si vede, impara dagli errori a volte, quindi, una partita vinta, senza sofferenza, scelte giuste, gambi giusti, secondo posto solitario ripreso, per questa partita, gli diamo un bel 7 a Inzaghi, con questo io concludo, noi ci vediamo domani, col video del fantacalcio, vi farò vedere cosa è successo, e noi ci vediamo al prossimo video, sempre e solo, Forza Inter, alla prossima, Ciao ragazzi!